Io vivevo a Savona perché sono arrivato negli anni 60-61, perché mio padre lavorava in Liguria per cui ha deciso di portarci tutti al nord. I primi anni sono arrivato a Savona, che non aveva ancora finito le scuole, però ho necessità di lavoro e tutto, quindi sono andato a fare un po' di garzoni in vari settori, officine. Poi ho lavorato prima di partire militare 4 anni in un'officina di rettifica di precisione, rettifichavamo praticamente i motori delle macchine. dall'albero a cam, diciamo, albero di servizio, pistoni, cilindri, tutto. Rimettevamo a nuovo il motore a scoppio. Poi nel 69-70 ho fatto servizio militare nei pompieri, quindi è stata un'esperienza molto, diciamo, positiva. In quel frattempo lì, negli anni 69-70, erano in fase di ricostruzione e lo stabilimento di Vado Ligure. Quindi io e i miei amici abbiamo fatto domanda, sperando di poter essere assunti. E ci hanno chiamato, io ero ancora in servizio militare, ho finito il servizio militare a giugno, a luglio sono partito, sono andato a Torino, ho fatto un mese di, diciamo, di tirocinio su queste macchine, questo reparto che veniva trasferito interamente a Vado Ligure, che era il reparto del, tutto il sistema di trasmissione delle autovetture che allora la Fiat produceva, dalla 500 fino alla Ferrari. Ferrari, diciamo, sia la vettura, diciamo, tradizionale, e anche quella della Formula 1. Quindi è stato un lavoro molto impegnativo, perché poi, diciamo, che sono stato assunto anche, perché avevo un mestiere nelle mani, cioè facevo rettificatore, quindi usavo micrometri comparatori di precisione, e sono stato destinato subito al reparto di rettifica, quello più preciso, perché lì praticamente non c'era possibilità, cioè di scarto, perché tutto quello che si scartava andava di nuovo in fusione. E io ho avuto il compito, lì a Vado Ligure, di fare una mansione di, allora veniva chiamato operatore di reparto, dove io preparavo le macchine con tutte le varie, diciamo, coppie, strumenti di misura, di rivelazione, perché la calibratura doveva essere perfetta, e poi, diciamo, gli addetti, gli operai seguivano poi la lavorazione, la produzione. Siamo partiti con un numero di circa 250 all'inizio, e quando poi, praticamente, io sono andato via, cioè prima che andassi via eravamo intorno al 1400, un bel indotto, dobbiamo dire. E Vado, diciamo, che la Fiat aveva, diciamo, realizzato questo stabilimento anche con la prospettiva di fare una, diciamo, demolire le navi a Porto Vado, e quindi fondere il prodotto, cioè il ferro, e quindi fare già pezzi per... Vado era un po', diciamo, in contrasto con Bergeggi, perché uno voleva l'industria, l'altro voleva il turismo, di conseguenza non gli hanno più permesso alla Fiat di ampliare, diciamo, lo stabilimento, per cui ha deciso poi a un certo momento di chiudere e trasferire di nuovo a Torino. Io mi sono trasferito prima, cioè, io ho avuto l'occasione nel 78, fatto che io mi sono sposato nel 73, a settembre del 1973, e mi ero trasferito già in Val Borbida, con la famiglia, perché mia moglie è nativa di Diego e abitava a Macairo. E il viaggio cominciava a essere un po' pesante, perché partire alle 5.90, per essere alle 6, quando facevo le 6.00 a 2, 6.00 e 2.30, perché allora si recuperava la mezz'ora del pranzo. Quindi diventava un po' pesante, perché poi si faceva dalle 2.30 alle 11.00, e quando si faceva la notte, si faceva dalle 11.00 alle 6.00, un'ora in meno, perché non c'era la pausa pranzo. Quindi a quei tempi lì, si marciava anche su quel problema lì. Quindi ho avuto l'occasione, tramite il mio cognato, che lavorava già a Ferragna, di fare il trasferimento da Vado a Ferragna. Quindi ho fatto domanda, ho fatto la prova lavoro, che allora consiste... Cioè io ho avuto nella meccanica, avevo bisogno di manutentori, perché ampliavano delle linee, la Super 8 nuova. E quindi ho fatto una prova lavoro, anche perché io a Vado avevo già una categoria, diciamo, pari al caposquadra. Mancanza di caposquadra, oltre a fare i miei compiti di manutenzione interna alla squadra, al reparto, e preparare nuove lavorazioni, quindi preparare le macchine con nuovi sistemi, diciamo, per la nuova produzione, io ho anche il compito di sorvegliare il personale, cioè quello addetto alla squadra. Quindi avevo già una categoria impiegatizia, che ahimè nel primo trasferimento ho perso, però con la mia prova lavoro, il mio, diciamo, saper fare, con l'esperienza, ho acquisito già, sono stato assunto col terzo livello. E sono andato a fare subito la manutenzione a questa nuova macchina, che è stata costruita in America, per il Super 8, quindi una linea moderna, dove venivano già con delle bolbine di pellicola, già del Super 8, naturalmente a luce verde, ma era quasi buio, si interveniva con i visori per fare piccoli interventi quando la macchina si inceppava o aveva dei problemi, e in caso di interventi più problematici, si ritoglieva tutto il materiale sensibile che era in sala per essere lavorato, e quindi si metteva a luce bianca e si interveniva a fare l'intervento. Ma è uno dei visori, praticamente si mettevano, tipo quelli militari, cioè visori che usavano già nell'esercito, perché erano gli stessi che avevano comprato, perché già in prova che poi pian piano sono stati usati, sia in lavorazione che anche all'estese, cioè dove non c'era possibilità di avere una luce adeguata per poter intervenire sui meccanismi, e allora si indossavano questo visore, si provava a vedere se si riusciva a far ripartire la linea senza interruzione, diciamo, di conseguenza però mettendo anche delle lampade nei filtri che erano apposite per poter usare i visori, perché con una lampadina diciamo in candiscenza normale questo intervento non si poteva, cioè questa visione diciamo netta, più precisa non si poteva ottenere. A parte che il primo giorno si può dire che non ho fatto niente perché sono stato messo lì in officina addirittura centrale, tanto perché il primo giorno anche per il sistema di sicurezza e quant'altro, sistema burocratico, non era possibile andare direttamente in lavorazione. Quindi lì ho avuto con esperienza già con delle persone che poi ho avuto anche dei contatti diciamo diretti perché l'officina centrale praticamente dove c'era tonneria, fredatura, dove si costruivano le macchine che usavano, cioè che erano già in produzione da anni e che si continuava a costruire per i reparti in modo particolare la bobinatura, cioè dove si avvolgeva la pellicola, si facevano delle pizze da... tipo il cinema, tanto per intenderlo, 35 mm, c'erano tutti i vari formati. Siamo passati da un'officina meccanica pura dove si rettificava, si torniva tutto a livello industriale a una fabbrica dove si lavorava in un certo modo pulito, cioè la buizia era essenziale, perché io mi ricordo che nel reparto dove io sono stato messo, cioè sono stato destinato al reparto G, dove c'era solo la diciamo l'abobinatura, cioè tagliature, tagliamo gli assi che la stesa stendeva, già diciamo colore, il bianco e nero ormai era superato e quindi venivano tagliati in formati a 35 mm o 26 per fare diciamo le rulline delle macchine fotografiche oltre a quelle che andavano via anche per il cinema. Avevamo le corriere che erano stipate proprio al massimo, quelli che lavoravano nei reparti più vicini all'uscita erano i fortunati che riuscivano a sedearsi all'andata, all'uscita e quelli invece che arrivavano nelle reparti un po' più esterni, più lontani e in piedi fino almeno fino a Cairo perché io poi abitavo un po' fuori Cairo quindi arrivando a Cairo forse anche un po' avevo la fortuna di sedermi perché poi mi mettevo sempre vicino a quelli che sapevo che erano i primi a scendere quindi ne approfittavo per poi potermi sedere. I cambi turni c'erano 7-8 pulma come minimo poi senza contare quelli che arrivavano in treno che facevano la spola dalla portineria fino alla stazione che era più o meno 800 metri insomma c'era c'era una processione specialmente al mattino in modo particolare al mattino nell'orario normale arrivavano i treni verso le 7 e mezza perché poi arrivavano più o meno in contemporanea sia quello di Savona che quello che arrivava dalla diciamo dal Piemonte Basso Piemonte da Ceva oppure da qui e arrivavano più o meno quindi quando scendevano era proprio una processione praticamente alle 78 fino alle 83 ho lavorato in manutenzione ecco reparto di cioè reparto G scusi e quindi diciamo subito sono andato su questa linea del Super 8 che qui praticamente la seguivamo al turno normale dalle dalle 8 a mezzogiorno e da l'una alle 5 perché la produzione diciamo doveva ancora essere avviata quindi poi diciamo una volta che questa linea è stata avviata cioè praticamente man mano mi sono diciamo spostato su altra linea linea del 135 fotografico della linea 126 e poi abbiamo creato un gruppo per le manutenzioni preventive che si facevano diciamo una volta al mese su ogni macchina quindi un giorno si faceva una macchina poi un'altra si fa andare a vittare anche perché c'erano dei pezzi che andavano poi sostituiti di volta in volta allora avevamo poi deciso di fare questo gruppo di manutenzione preventiva quanto riguarda diciamo il sistema di organizzazione non era almeno sotto il mio punto di vista non era cambiato niente cioè diciamo che gli americani hanno portato dei sistemi appunto di lavorare in gruppo di fare delle riunioni dove si portavano delle migliorie e quindi c'era un capogruppo di questi di questi diciamo di questa o manutenzione o produzione che si incontrava una volta ogni tanto e chiedevano magari delle modifiche delle migliorie sulle linee e noi eravamo invitati cioè sempre il capogruppo di queste riunioni di questi gruppi organizzativi che facevano capo diciamo ai vari settori e quindi si sentivano un po' le richieste da fare e noi si elaboravano e infatti appunto anche queste preventive erano uscite fuori dove evitare di fermare la linea durante la lavorazione perché poi questi questi pezzi di usura andavano sostituiti allora avevamo dove evitare appunto questi fermi macchine prolungati e abbastanza soventi avevamo concentrato un po' queste manutenzioni preventive dove una volta al mese praticamente tutte le macchine a rotazione una settimana si faceva un tipo un'altra settimana un'altra praticamente venivano revisionate sostituiti tutti i pezzi di usura e quindi la macchina generalmente lavorava poi per tutto il mese senza interruzione diciamo di grossi interventi manutenutivi l'officina di reparto eravamo una dieci meccanici e cinque elettrici perché praticamente quando si interveniva poteva esserci un guasto elettrico o meccanico oppure da fare assieme quindi praticamente si andava come un accordo sia reparto elettico che poi la monotenzione diciamo che avevamo anche delle rettifiche per rettificare i punzoni di punzonature delle pellicole effetto come il lavoro diciamo che era abbastanza vasto e non era mai ripetitivo questo lavoro io l'ho fatto fino al 83 perché poi nel frattempo già con l'esperienza della Fiat che non avevo i titoli di studio perché quando ero alla Fiat quando sono venuto dalla Calabria praticamente avevo interrotto gli studi e poi nel periodo che ero alla Fiat alle serali mi sono diciamo preso la terza media poi visto che non bastava ancora allora quando sono arrivato a Ferragna ho deciso fatto che mi davano la possibilità anche come l'orario normale poi mi facevano uscire anche un'ora prima ho iniziato a frequentare l'itis di Savo a serale quindi un'esperienza diciamo abbastanza faticosa perché farsi 8 ore di lavoro e poi alla sera partire venire già a Savona fino a mezzanotte per 5 anni quindi io mi sono diplomato perito elettrotecnico e da lì poi diciamo mi hanno spostato in il reparto di produzione perché al momento diciamo c'erano delle richieste da sostituire una persona che andava in pensione perché lì quando andavano via poi si cercava all'interno se c'erano persone diciamo adatte a quel tipo di lavoro quindi io mi ero appena diplomato fresco fresco mi hanno detto adesso c'è la possibilità di prendere questo posto era il 1983 io ero quello più anziano perché c'erano ragazzi che erano stati bocciati al diurno e quindi per motivi di famiglia o che avevano ripiegato sul serale quindi avevano già dell'esperienza diciamo di studio al diurno e quindi poi si sono affiancati a noi ma le classi più o meno erano 10-15 persone io avevo abbastanza manualità nelle cose diciamo meccaniche elettriche e ci scambiavamo un po' degli aiuti via cioè i giovani aiutavano me nelle parti diciamo più teoriche e quando poi facevamo officine elettriche meccaniche io aiutavo loro c'era uno scambio di aiuto via hanno la possibilità di passare diciamo di categoria quindi passare nella categoria impiegati e sono andato a fare diciamo sempre lavorazione diciamo di produzione pellicole però sono passato dal fotografico al radio quindi ho cambiato totalmente lavoro a questo punto io ho indossato il camice bianco perché prima ero vestito come alla Fiat meccanico blu quindi diciamo lì c'è stato il passo decisivo quindi ho iniziato questo reparto il reparto di che si produceva le lastre per la 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 radiologia quando uno va bisogna fare una lastra si usava ancora quel materiale lì e c'erano diversi formati inizialmente sono andato a fare la programmazione dalla lavorazione della radio praticamente a inizio mese arrivava un programma da un altro gruppo che lo chiamavano il Pipro che avevano i contatti con i vari ospedali in Italia e anche qualcosina all'estero dove chiedevano determinati formati quantitativi da per il mese cioè si faceva il programma mese per mese un programma mensile quindi praticamente da questo programma questa lista di vari formati da produrre io calcolavo dal giumbo loro chiamavano giumbo dall'asse che non era la stesa che era diciamo utile 136 di emulsione inizialmente erano lunghezza intorno ai 1000 1200 che poi man mano che siamo andati avanti siamo arrivati fino a giumbi da 2000 metri e quindi programmavo le tagliature in base ai formati si doveva fare dei formati di 18 24 30 35 e su questi formati poi si tagliamo praticamente questi assi in base alle matrici che si si programmavano uscivano fuori non so 18 un un rullo dalla lunghezza dell'asse perché partiva di dietro poi faceva tutti i svergimenti passava nella matrice dove c'erano i coltelli coltello e contro coltello in rotazione che tagliavano questa pellicola e c'era un avvolgimento due alberi di avvolgimento perché potevano essere sfarsati perché il giumbo era tutto intero però davanti si si riavvolgeva su delle bobine e quindi c'erano degli spazi da da intercalare quindi si faceva una bobina sopra una sotto quindi venivano fuori due o tre bobine sul lato del superiore altrettanti sotto o l'inferiore nei vari formati poi questi rulli accompagnati da schede prima di fare il taglio si programmava la tagliatura e venivano già stampate delle schede che seguivano poi ogni vari mini jumbo praticamente noi li chiamavamo a volte con le varie etichette già con le etichette prestampate che quando andavano in tagliatura nelle macchine di confezione doveva essere la scatola veniva etichettata con queste etichette adesive che riportava tutto il nome diciamo il numero del prodotto il tipo l'asse e la zona in modo in modo tale che se c'era qualche reclamo qualche difetto che il cliente evidenziava si andava a verificare se era successo qualcosa durante la lavorazione di questo e nella tagliatura c'era un allora si faceva una verifica visiva all'inizio praticamente c'era un operatore seduto che gli passava la pellicola davanti con una luce di riflesso dietro che se vedeva cioè individuava dei difetti che venivano cioè venivano creati in stesa perché noi lì ormai il prodotto era quasi quasi finito si segnalava se era un contametri si segnalava il metraggio dove era stato visto il difetto sulla scheda che accompagnava la zona diciamo il punto dove era stato tagliato quando andava poi in confezione sulle macchine che tagliavano facciamo facciamo un formato finito con gli angoli arrotondati la macchina era predisposta che quando tagliava faceva anche l'arrotondamento angoli se c'era un difetto praticamente sulla scheda l'operatore che prendeva in carico questa zona doveva controllare innanzitutto se c'erano stati segnalati dei difetti e quindi a ritroso facevano il conto di quanti metri quanti tagli uscivano a quel certo numero di tagli veniva praticamente preso dei campioni una campionatura supplementare per vedere se c'era difetto a che punto lì prima di essere mandato sul mercato c'era del personale ha detto in verifiche diciamo delle sale apposite dove c'erano delle lavagne luminose con diciamo luce controllata che non danneggiate il materiale controllavano il materiale e scartavano la parte cattiva poi andando avanti invece quando addirittura abbiamo avuto l'evento delle due macchine costruite in Giappone avevano installato dei controlli laser che spazzavano praticamente tutta la zona con una frequenza proprio diciamo ultraveloce e quando individuavamo qualsiasi difetto che a volte magari non era neanche visivo la macchina in automatico apriva una bottola dove buttava via uno o due fogli che poi venivano controllati a sua volta se effettivamente il difetto c'era o meno anche per controllare l'apparecchiatura dell'ase se aveva funzionato bene e quindi praticamente c'è stato un passo diciamo notevole nella qualità di questi prodotti io questo lavoro qua l'ho fatto per una decina sette o otto anni ancora poi c'è stata la possibilità di passare c'era un capoturno che andava andato in pensione abbastanza diciamo non prevenuto e allora il caporeppato si è trovato un po' un po' spiazzato e io avevo chiesto se c'era la possibilità di fare i turni e quindi mi è stato concesso ho preso diciamo la mansione da capoturno sempre nello stesso reparto perché ormai conoscevo già la lavorazione la programmazione quindi e poi con l'esperienza ancora che avevo sulla manutenzione diciamo che alcuni interventi piccoli o suggerimenti intervenivo direttamente io senza senza fermare la macchina la lavorazione lavorare in un ambiente a luce naturale o con i neon insomma secondo gli orari andare a lavorare al buio è la cosa ho sentito un po' un po' pesante perché quando si entrava non si vedeva un accidente e il brutto era quando si usciva perché bisognava uscire diciamo possibilmente gradatamente avvicinarsi alla luce sempre più più forte e quindi di conseguenza mi è calata anche un po' la vista ho notato che la vista praticamente è un po' diciamo la pecca era un po' quella via in queste le parti di confezionamento sia del fotografico che poi anche radio tante mansioni venivano svolte dalle donne se si lasciava un po' prendere la mano le donne diciamo hanno un po' la cosa più di arrufionarsi un pochettino io invece diciamo parlo della mia persona io ho sempre trattato tutti allo stesso modo anzi quelli che si comportavano bene sia maschi che donne non ho mai fatto distensione da uno all'altro quelli che si comportavano bene che non mi hanno mai dato problemi io avevano bisogno di ferie o di permessi o quant'altro non ho mai fatto distensione da uomo a donna ho sempre cercato di andargli incontro c'erano anche i furbetti che purtroppo ci sono un po' dappertutto e quelli li ho castigati cioè qualche uno l'ho castigato cioè ma non castigato nel senso però diciamo che quando aveva bisogno di gli americani avevano portato un po' diciamo c'erano i punti fumano quando nelle parti non si poteva fumare o accendere anzi addirittura quando sono entrato io sentivo parlare che se qualcuno voleva fumare doveva andare in portineria centrale cioè praticamente dove entrava all'inizio quando entrava in fabbrica poi hanno fatto delle sale fumo nei vari reparti dove uno se voleva fumasse una sigaretta andava in questo punto fumo se la fumava diciamo con tranquillità e poi insomma diciamo che la confidenza era quella anche poi di fumare anche nel refettorio dove si mangiava e con me questo non succedeva perché io diciamo di carattere ero c'è il punto fumo lì vai a fumare lì non puoi fumare dove gli altri mangiano o prendono caffè e diciamo che quando ci sono entrato io nel 78 diciamo cominciavano già a allargare un po' la maglia c'era un po' più tolleranza diciamo se uno se uno dove andare in bagno ma io sempre lì dove sono andato al reparto di dove si confezionava la radio sentivo parlare che se uno usciva per andare in bagno doveva passare in segretaria a prendere la medaglia il numero che insomma si assentava un attimo dal lavoro per quindi c'è stato un po' non diciamo uno doveva uscire a prendersi un caffè e poi e io non ho mai tollerato che persone anche perché poi è poco rispetto per quello che sta mangiando quello che insomma sta facendo la sua pausa caffè che doveva avere davanti uno che gli fumava io premetto che non sono un fumatore sono mai stato un fumatore quindi la cosa mi dava fastidio avere uno che mi fumava davanti e lì ogni tanto con qualcuno mi sono un po' arrabbiato ho avuto un po' dei contrasti per come l'ho vissuta io la questione in me è nata così che l'A3M aveva copiato dei brevetti alla Kodak aveva copiato dei brevetti alla Kodak in America non scherzano l'A3M era stata condannata a risarcire questi danni quindi l'A3M ha pensato bene di cedere cioè di pagare il danno alla Kodak con Ferragna perché Ferragna tanto ormai all'America non gli interessava più niente l'A3M perché tutto quello che aveva potuto si era fatto i stabilimenti in America e quindi cioè anzi avevamo un capo diciamo diretto che era andato in America e aveva avuto l'ordine di chiudere Ferragna questo signore è ritornato ha detto no io Ferragna non la chiudo ha dato la sua dimissione e se n'è andato e poco dopo poi siamo passati a iMesho che poi iMesho c'era che ci faceva un po' la battuta iMesho in dialetto insomma e lì anche lì ha fatto un festeggiamento abbastanza pomposo ci ha mandato la cassetta a casa la bottiglia insomma però si sapeva già che era destinata la Ferragna era destinata a chiudere anche perché non c'era con l'evento digitale non c'erano più stati i finanziamenti per diciamo per evolversi diciamo sul digitale o su altri prodotti cioè la 3M ormai Ferragna non da come l'ho vissuta io da capoturno che quindi avevo la possibilità di sentire in alcune riunioni certi discorsi lasciavo appesagire che Ferragna infatti io a mio figlio mio figlio adesso è 87 quando studiava gli dicevo guarda studia io purtroppo mi sono dovuta arrangiare con le serali ho detto io ti do la possibilità di studiare però non sperare in un posto di lavoro a Ferragna perché quando tu avrai finito gli studi Ferragna non esisterà più e infatti così è andata e noi diciamo nel reparto di produzione della radio abbiamo lavorato gli ultimi due anni praticamente il 98 99 finito con il 2000 producendo il materiale sotto marchio Kodak cioè timbrato c'era sempre materiale fabbricato a Ferragna con diciamo le formule Ferragna e quant'altro però il materiale andava fuori timbrato in scatolato tutto Kodak praticamente abbiamo pagato il danno che ha fatto 3M a Kodak con lo stabilimento di Ferragna Ferragna in poche parole almeno dalla mia esperienza dal mio punto di vista ha pagato le conseguenze e ha pagato i danni a praticamente hanno svuotato la e diciamo anche complicità dei sindacati perché ci sono stati dei sindacati che hanno ignorato quel passaggio lì perché io ho avuto un modo di io quando lavoravo alla Fiat Avado c'era allora i sindacalisti che uscivano così da nulla improvvisati un certo Congio che è stato capo della federazione aveva cambiato due perché quando poi lo pesavano però poi la Guilla l'aveva insomma cosa più se la Guilla o la Ciglia cioè praticamente l'aveva ritenuto idoneo e Avado io l'ho conosciuto come una persona diciamo vicida bastava che lui facesse potesse fare il sindacato infatti una volta lui criticava Agnelli criticava tutto quello che si poteva criticare però lui faceva ideologie sindacali una volta allora passava il segretario a dare le buste col carrellino e si è trovato in contrasto con una persona che gli ha detto ma come tu fai sindacato ma dovresti prendere la busta dai sindacati come mai viene appena la busta di Agnelli che lo critichi sempre e questo proprio gli ha detto ma nella vita ognuno fa delle proprie scelte tu hai scelto di produrre pezzi per Agnelli invece ho deciso di fare ideologie sindacali e questa persona qua ce la siamo trovata poi diciamo negli ultimi anni di vita dalla 3M a Farragna e un giorno l'ho preso mi sono accostato e ho detto ma vi rendete conto che qui ci stanno svuotando ma cosa vuol dire ritorniamo di nuovo a Farragna come era prima ma cosa ritorna in Farragna se qui le formule sono state cedute alla Kodak cioè qui stanno svuotando lo stabilimento stanno svuotando praticamente rimarrà una scatola vuota detto con quale formule stendi con quale formule continui a lavorare se le formule ormai sono della Kodak sono state cedute a Kodak insomma che ma può diventare può intervenire la Fuji può intervenire qui ma si ma può ma l'hai sentito questi signori sono disposti a subentrare no allora quindi praticamente io sono uscito a dicembre del 2000 con la prospettiva davanti di due anni di mobilità perché praticamente cioè non è che abbiamo potuto scegliere quelli che in quel periodo lì c'era stato fatto un accordo con i sindacati e unione industriale quelli che nell'arco di due anni 24 mesi maturavano i requisiti per andare in pensione dovevano essere sbattuti fuori dolente o non dolente io diciamo che ho avuto la possibilità di fare turni più adeguati più io odiavo fare 6 a 2 perché era il turno più massacrante soprattutto per il capo turno che doveva programmare il lavoro di tre turni cioè arrivare fino all'indomani e avere già il turno quasi programmato di materiali in balli quindi era proprio un lavoro altamente stressante per me e quindi ho parlato col capo del personale mi ha dato la possibilità di fare a posto del 6 a 2 una notte cioè una settimana o più di notte ma facendo il turno di notte io ero più riposato di quando facevo il 6 a 2 per il tipo di lavoro che la mansione che svolgevo in quel periodo di conseguenza ho visto tutti questi questi passaggi di cose che ormai andavano a esaurirsi così senza un intervento da parte dei sindacati o dalla direzione o che ci sono passato casualmente due volte però quando si passa di davanti è un pezzo di storia che se n'è andata è un pezzo che noi ci abbiamo vissuto ci abbiamo lavorato con la con la prospettiva di lasciare un lavoro anche ai nostri figli di un futuro che adesso non c'è più quindi c'è un certo un certo magone via chiamiamolo così un po' di di cose che cioè ricordi belli che poi sono finiti male un po' di cose Grazie a tutti